Si torna a Misano per la secondo appuntamento stagionale per quanto riguarda la MotoGP e tutte le categorie del Moto Mondiale sul circuito romagnolo, a sto giro si è svolta una gara molto importante dal punto di vista del Mondiale per quanto riguarda la MotoGP perché come sapete sicuramente tutti Fabio Quartaroro si è giudicato il titolo del mondo 2021 ai danni di Francesco Bagnaia che getta via un'opportunità clamorosa di vittoria in una giornata in cui il francese non aveva di certo il passo per dominare altre gare come appunto abbiamo visto nel corso di questa stagione. E' un gran premio di Misano 2 o dell'Emilia Romagna se preferite che chiude il Mondiale MotoGP ma che tiene aperto sia il Mondiale Moto2 sia il Mondiale Moto3 dunque anche se due giorni dopo tornano i recent podcast sulla MotoGP che da un po' che non uscivano perché appunto Austin l'ho recuperata tardi, nel frattempo il calendario della FIM e della FIA ovviamente facevano coincidere spesso Formula 1 per Bike e MotoGP e di conseguenza sapete quali sport hanno priorità sul mio canale. La MotoGP a sto giro si dedica a un episodio a parte seppur indifferita a freddo ma bisogna farlo per celebrare il titolo del mondo di Fabio Quartaroro primo della carriera per quanto riguarda il francese in tutte le categorie del moto mondiale primo della storia della Francia perché appunto mai prima di due giorni fa la nazione transalpina si è aggiudicata a un titolo del mondo per quanto riguarda la MotoGP. Si lo aveva fatto invece nelle categorie propedeutiche l'ultimo francese a vincere per quanto riguarda i prototipi fu Johan Zarco, bicampione mondiale della Moto2 se non sbaglio gli anni furono 2015 e 2016. Quartaroro in una gara non brillante anzi diciamo una gara totalmente in salita riesce comunque a giudicarsi il Mondiale per via di un episodio fondamentale accaduto al suo diretto concorrente e contender per il titolo del mondo. Ovvero Francesco Bagnaia che aveva fatto una gara perfetta fino a quel momento a 5 giri dalla fine purtroppo però il Ducatista si stende e getta via le poche in realtà speranze di titolo del mondo. Sicuramente una vittoria di Bagnaia con un piazzamento a punti di Quartaroro avrebbe tenuto aperto quantomeno per l'aritmetica il Mondiale a MotoGP. Certo mancano due gare alla fine dunque sarebbe stato veramente difficile conquistarlo. Serviva un Bagnaia extra lusso come lo era in realtà fino appunto al quintultimo giro quando appunto il pilota piemontese perde la moto si stende e di fatto regra la vittoria al suo contender per la gara ovvero Mark Marquez che torna a vincere dopo la gara di Austin Texas dunque doppietta per il pilota spagnolo. Da tifoso ducatista sono in realtà dispiaciuto per quello che è successo perché nei primissimi giri addirittura le Ducati erano due in testa entrambe le ufficiali. Primo Bagnaia secondo Miller che anche lui era comunque in un buono stato di forma. Miller si stenderà praticamente subito e non sarà un fattore della gara. Bagnaia fino a quel momento faceva una gara di passo gestendo comunque un Mark Marquez che su questa pista comunque era tornato a dei livelli molto alti. Anche se il pilota spagnolo non aveva mai azzardato un giro in testa davanti a Bagnaia che evidentemente ne aveva di più e poteva capitalizzare soprattutto la debacle di Quartarò in qualifica. Invece Bagnaia lo troviamo in questa immagine purtroppo steso per le terre e getta nel rudo un titolo del mondo che ripeto era difficilissimo da conquistare prima contro questo Quartarò in generale c'era poco da fare ma ultimamente Quartarò non era molto in forma e bisognava approfittarne. Purtroppo Bagnaia non ne ha approfittato e di fatto Quartarò senza sforzarsi più di tanto alla fine vince il mondiale 2021 meritatamente perché ripeto questo Quartarò era oggettivamente ingiocabile nonostante la Yamaha non sia di per nulla la moto migliore. Probabilmente non dico la terza moto in pista ma probabilmente ci siamo vicini perché questa onda probabilmente è superiore in generale alla Yamaha ma ne vedremo ovviamente meglio i risultati tra poco. Peccato però Bagnaia comunque ha fatto esperienza su una moto ufficiale ha probabilmente capito che può essere un cavallo da battaglia per i prossimi titoli mondiali certo bisogna fare in modo che si rasentino allo zero queste occasioni soprattutto in mondiali che magari possono essere più combattuti come questo. Ripeto la situazione non era delle migliori perché ripeto Quartarò aveva un margine di vantaggio mostruoso e con la creduta poi dopo si è visto come finirà la rincorsa al mondiale 2021. Va detto però che appunto da due Ducati sul podio ai noi ci ritroviamo due onda sul podio perché è vero vince Mark Marquez per cui suona di nuovo la marcia reale ma c'è doppietta addirittura della onda ufficiale. Una moto che fino a questa gara praticamente tolto Mark Marquez era una moto imbarazzante e difficilissima da commentare spesso nelle posizioni che non contano e invece qui anche Polizio Spargarò si ricorda di essere un pilota di MotoGP e riesce a capitalizzare un podio importantissimo quantomeno per il suo morale e il suo campionato. Il pilota però probabilmente che sorride più di tutti è quello che si è classificato al terzo posto ed è il best di Rimini Enea Bastianini uno dei miei pupilli in assoluto fin dei tempi della moto 3 corona una rimonta pazzesca alla meglio di un Quartarò che comunque nonostante una partenza folle perché era 17esimo comunque in Q1 se non sbaglio era 14esimo comunque facciamo metà schieramento arriva in quarta posizione e se la lotta alla fine Quartarò in un modo o nell'altro è a podio Bastianini rimonta anche lui dal centro classifica va sotto il francese e con una tra l'altro bella manovra di sorpasso riesce ad avere la meglio a conquistare l'ennesimo podio della stagione per quello che senza se e senza ma per me è il rider del giorno nonché evidentemente miglior ruchi col fatto che Orga Martin sia ritirato è il secondo podio in tre gare per quanto riguarda Enea Bastianini ancora una volta a Misano visto che appunto anche nella gara 1 se possiamo chiamarla così è finito terzo ma Bastianini in generale è abbastanza in forma perché vediamo nelle ultime quattro gare non ha mai fatto peggio di sesto certo neanche mai meglio di terzo ma comunque avercene di rendimenti così di un pilota che ricordiamo corre con la Ducati iper privata Bastianini corre nel team Avintia che di fatto è equipaggiato con la Ducati del 2019 quindi veramente molto molto vecchia in quanto team clienti in questa classifica vediamo appunto il vantaggio che invece dicevamo di Fabio Quartarò che dunque aritmeticamente conquista il mondiale con 267 punti e il povero Bagnaglia nonostante appunto la caduta chiude con un margine enorme segno che appunto Quartarò parliamoci chiaro se non avesse vinto il mondiale in questa gara l'avrebbe probabilmente conquistato nella gara dopo peraltro Portimao gara 2 dove Quartarò avrebbe dominato anche la gara precedente Bagnaglia comunque è un pilota che avrebbe meritato sicuramente quanto meno il podio ma era in lizza per la vittoria avrebbe quanto meno aritmeticamente avuto aperto il mondiale perché Bagnaglia nelle ultime quattro gare è evidentemente il pilota più in forma a differenza di Quartarò che da Silverstone in poi sta di fatto gestendo un vantaggio costruito prevalentemente nella prima metà del mondiale Per quanto riguarda invece in generale la Ducati è più una stagione di rimpianti perché ancora una volta la Ducati probabilmente era ed è la miglior moto collettiva in pista il cavallo da battaglia l'ha trovato probabilmente troppo tardi perché Bagnaglia si è svegliato con la prima vittoria stagionale ad Aragon quando ormai il mondiale probabilmente era bello che è andato Ripeto però Bagnaglia ha fatto sicuramente esperienze ha capito di essere un pilota su cui si può puntare per il titolo del mondo e l'anno prossimo con queste esperienze in più secondo me può essere una pilota su cui puntare Gli altri piazzamenti ne abbiamo detti seconda posizione per Polizio e Spargarò di fatto al primo podio della carriera da quando è di fatto arrivato in onda Terzo Enea Bastainini ripeto ancora una volta il bestia di Rimini rider del giorno senza sei senza ma quarto Quartarò che comunque si aggiudica il titolo del mondo Quinto Johan Zarko che anche lui sembrava essere uno dei contender al titolo ma poi dopo anche lui è abdicato anche un po' per via delle grandi persone di Martino un po' per cali fisici suoi Ma in generale della potenza della stagione ne parleremo a fine anno quando faremo il solito pagione dei promossi e bocciati Sesta posizione per Alex Rins con l'unica del due Suzuki in gara la Suzuki da moto campione del mondo si ritrova a fare ancora una volta una gara al di sotto delle proprie possibilità Settima posizione per quanto riguarda la gara di Misano è Alex Spargarò con un'Aprilia per quanto riguarda la sua parte che in ogni caso in top 10 ci finisce sempre e comunque Ottavo Maverick Vignales che conferma il fatto che l'Aprilia generale sia una moto in crescita e con i piloti giusti può puntare evidentemente ad avere due piloti in costante top 10 E Vignales oggi realizza una grande gara la migliore da quando è in Aprilia Nona posizione per Luca Marini evidentemente pound for pound alla miglior gara della carriera perché è vero c'è il quinto posto in Styria Ma è una gara bagnata e quindi conta anziché no questa invece era una gara vera ed evidentemente i valori erano quelli reali E Marini su Misano pista che comunque conosce ha fatto una grande grande gara così come ha fatto va detto una grande grande gara Valentino Rossi probabilmente sarà stata l'area della ultima gara della carriera a Misano Adriatico Rossi soffrendo ancora una volta in qualificazione con una moto non competitiva perché ricordiamo che la Yamaha SRT probabilmente è la peggior moto del mondiale Se non lo è poco ci manca partendo nelle ultime posizioni poi Rossi riesce a rimontare E tirando fuori la sua caratteristica principale ovvero quella di essere un animale da gara Fa top 10 per la soddisfazione comunque dei tifosi che lo hanno accolto nel migliore dei modi Gli altri italiani in gara li vediamo subito Michele Pirro a wild card con la Ducati ufficiale Finisce in una interessante comunque dodicesima posizione tre gare quest'anno per Pirro tre volte in zona punti Quindicesimo Andrea Dovizioso che scusatemi tredicesimo Andrea Dovizioso che a tratti era anche davanti a Rossi Poi comunque ripeto Rossi ne ha avuto di più e comunque per Dovizioso anche in questo caso esperienza Anche in vista dell'anno prossimo dove rientrerà ufficialmente in MotoGP sempre nello stesso team Che in realtà ci chiamerà Yamaha Team RNF in coppia con Derrin Binder direttamente dalla Moto3 L'altro italiano impegnato era Danilo Petrucci che evidentemente completa una gara anche in questo caso in ritiro Qui purtroppo non è colpa sua Juan Mir lo stende incolpevole il pilota Umbro C'era anche Luca Savadori che è rientrato, scatemi Lorenzo Savadori logicamente è rientrato in pista con l'Apriglia Purtroppo si è infortunato di nuovo e sarà out for the season anche lui Savadori è ritornato dopo l'operazione subita L'incidente gravissimo in Austria come wildcard e purtroppo non è riuscito a essere competitivo Ultimo italiano a zona punti, Franco Morbidelli quattordicesimo sulla Yamaha ufficiale Che in generale ha dimostrato di essere la miglior moto per quanto riguarda il pilota Nel senso Fabio Quartarò, ma non è la miglior moto in generale dal punto di vista del pacchetto Perché ripetiamo ancora una volta Quartarò ha vinto il mondiale L'altra miglior Yamaha a netto dei rendimenti di Vignales è proprio paradossalmente Franco Morbidelli Che metà stagione la corsa con una Yamaha clienti che è veramente ripeto la moto peggiore del mondiale Oggi di lì le gare le ha saltate, è rientrato di fatto due gare fa e sta riprendendosi da una condizione precaria Di conseguenza la Yamaha in generale è non giudicabile se non appunto per il fatto che Fabio Quartarò ha fatto il Marquez degli anni scorsi Quindi un pilota che ha guidato sopra i problemi e ha portato una moto inferiore a vincere il titolo Peraltro ipermeritato Adesso le prossime due gare saranno di fatto di passerella Si correrà ancora una volta a Portimao per il Gran Premio dell'Algarve E si guiderà come sempre a Valencia al circuito Riccardo Tormo La MotoGP avrà dunque un ruolo di paradossalmente secondo piano perché i mondiali sono di fatto chiusi E si gioca soltanto per la vittoria della tappa Non sarà così invece per Moto2 e Moto3 E se abbiamo parlato di mondiale buttato e di una caduta rovinosa per Bagnaia lo stesso Si può probabilmente dire per Raul Fernandez Uno dei migliori piloti a condenarsi il titolo del mondo probabilmente in generale della Moto2 Era il pilota che era in rush, aveva il momentum come dicono negli Stati Uniti a suo favore E anche qui una caduta lo compromette dalla rincorsa del titolo mondiale Qui il mondiale si gioca di fatto in causa perché il miglior contender oltre Fernandez è Remy Garner Suo compagno di squadra nel team Red Bull KTM Io Garner che nella peggior gara dell'anno finisce al traguardo settimo e paradossalmente aumenta il suo vantaggio su Fernandez Che fin qui era in rimonte evidente e lo avrebbe anche superato perché Fernandez avrebbe probabilmente vinto questa gara al netto di un Sam Lowes Che su Misano sembrava veramente un pilota in stato di grazia E il pilota inglese infatti centra la vittoria dopo essere partito dalla pole position Ed evidentemente torna evidentemente vincitore in Moto2 Lui che peraltro è diventato il pilota con il maggior numero di pole position in questa categoria Ben 17 e dunque suona God Save the Queen per lui che doveva essere uno dei principali contendenti al titolo del mondo Oramai Sam Lowes possiamo definire uno specialista della Moto2 e invece il mondiale è a pannaggio di Remy Garner e Raul Fernandez Remy Garner ripeto finisce settimo e è lunga a 280 punti Raul Fernandez rimane fermo a 262 e interrompe la streak di tre vittorie di fila su Remy Garner Che evidentemente aveva visto il vantaggio sul mondiale di fatto ridursi dopo la caduta a Austin, Texas Dove Fernandez evidentemente aveva vinto Il podio lo completano per quanto riguarda la gara di Made in Italy ed Emilia Romagna Al secondo posto troviamo Augusto Fernandez per la doppietta del team Mark VDS Che qui veramente era logicamente probabilmente la moto da battere al netto di Fernandez E terzo posto per la Bosco Scuro di Aaron Canet per il team Aspar anche per lui Secondo podio consecutivo a Misano dopo quello di due settimane fa Migliore degli italiani Celestino Vietti evidentemente ha la miglior gara della carriera da quando è in moto 2 Peraltro Vietti verrà confermato l'anno prossimo sempre nello stesso team Lo Sky Racing Team VR46 oggi peraltro in un livrea speciale tutta giallo-dorata Per commemorare il ritiro e onorare ovviamente il ritiro di Valentino Rossi All'ultima gara della carriera qui a Misano Adriatico Chiudiamo il Racing Podcast con la Moto3 altro mondiale che sembrava chiuso ma invece è riaperto Perché il miglior contender dopo Pedro Acosta ovvero Dennis Foggia vince e soprattutto convince In caso dopo aver dimostrato una forza pazzesca sul asciutto Perché purtroppo Dennis Foggia riesce a limitare i danni in qualificazione Dopo una qualificazione appunto disputata su pista bagnata E qui evidentemente sull'asciutto però il piatto romano ha dimostrato di avere assolutamente un altro passo E dunque suona Fratelli d'Italia per colui che di fatto riapre il mondiale Perché a due gare dalla fine ci sono 19 punti di vantaggio Anzi sono 21 in realtà i punti di distacco in favore di Pedro Acosta Ed è paradossalmente un mondiale ancora aperto Perché appunto Dennis Foggia nelle ultime quattro gare ha sempre fatto o primo o secondo Se allunghiamo la strica le ultime sei ha fatto anche due terzi posti Foggia è senza se e senza mai il pilota più in forma dell'intero mondiale Moto3 in questo momento Certo Dennis deve evidentemente rincorrere a un Pedro Acosta Che ha fatto quello che voleva nella premessa parte di stagione Un po' come Fabio Quartarò Soltanto che la Moto3 non è la MotoGP E di conseguenza una gara falsa Ci può essere più spesso che in MotoGP Dove magari non è la moto migliore Ma se sei molto bravo limiti danni e finisci nei primi cinque Qui se limiti danni puoi finire sempre nel gruppone Ma spesso può capitare di finire un dicesimo settimo ottavo Come appunto è capitato ad Acosta Che peraltro è pure caduto ad Aragon Dennis Foggia vince appunto la terza gara nelle quattro E sono cinque addirittura in stagione 213 punti per il pilota romano Seconda posizione per Jaume Masia Compagno di squadra di Pedro Acosta Che comunque sì in questa gara limita i danni Perché fa terzo Un podio preziosissimo alla rincorsa al titolo del mondo Considerato che anche qui come le MotoGP Mancano due gare alla fine E dunque ci si troverà anche qua a Portimao Per vedere come si incolleranno i due titoli del mondo Della Moto3 e della Moto2 Che ripeto sono evidentemente adesso più favoriti Verso Garner e Acosta Evidentemente per punti che mancano da segnare E gare che mancano evidentemente alla fine 21 punti sono vantaggio considerevole Acosta sinceramente potrebbe limitare i danni Anche nella gara successiva e vincere comunque il mondiale In ogni caso va detto che Acosta sta gestendo un grande vantaggio Che è maturato nella prima parte di stagione Mentre Dennis Foggia è lanciato verso una rimonte Che avrebbe dell'incredibile La matematica lo tiene ancora in gioco Così come dall'altra parte Fernandez è tenuto ancora in gioco Dalla aritmetica su Garner In ogni caso saranno due gare da vivere totalmente In Portogallo e in Spagna Dunque tra due settimane se non sbaglio Si correrà appunto per il Gran Premio dell'Algarve In contemporanea se non sbaglio con la Formula 1 Che correrà in Brasile al circuito di Interlagos Dove anche lì ci sarà il Racing Podcast dedicato Mentre per quanto riguarda il campionato mondiale MotoGP e altre categorie Ci troverà il giorno dopo il mondiale di Formula 1 Per parlare del Gran Premio del Portogallo Per vedere se si chiuderanno i mondiali Moto2 e Moto3 In ogni caso fate sapere cosa ne pensate Della Racing Podcast della MotoGP Di cui vi lasciamo la classifica Ricordando che per la prima volta in carriera Fabio Quartarò è campione del mondo Della MotoGP 2021 mondiale Peraltro iper iper meritato Il saluto da parte di Matthew Thorgaard Fatemi sapere cosa ne pensate Ci vediamo al prossimo video